Anna Tuzzato aveva 29 anni e morta con tutta probabilità sfissiata dalle esalazioni di fumo che ha avvolto l'appartamento in cui viveva al secondo piano, dopo che un incendio ha devastato l'appartamento al primo piano. La ragazza di Fiesso d'Artico da due anni viveva a Bruxelles, nella cittadina di Eterbeck. Lavorava nell'ufficio comunicazione di una ONG che segue i coltivatori di agricoltura biologica. Si era laureata in scienze della comunicazione a Padova. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti all'alba, la giovane aveva già perso conoscenza a causa delle inalazioni. Sono stati inutili i tentativi di rianimarla. I familiari della ragazza, genitori e le due sorelle hanno già raggiunto la capitale belga, assistiti dalla Farnesina in stretto accordo con l'abbasciata italiana. A ricordarla oggi anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. In un post sulla sua pagina Facebook scrive «Una notizia che ci riempie di tristezza. Per un'assurda fatalità il Veneto perde una giovane che si stava impegnando per rendere migliore il mondo». Una tragedia che ricorda purtroppo la storia di altri due ragazzi, Gloria e Marco, che hanno perso la vita nel tragico incendio a Londra, quello delle Greenfield Tower, il 15 giugno di sei anni fa.